Normalmente è importante partire anche dalla consapevolezza che eravamo in pieno medioevo nel 2005 e che il sistema sanitario pugliese dal punto di vista delle infrastrutture, delle strutture, della modernizzazione ha fatto qualche secolo di strada. Ovviamente gli obiettivi da raggiungere sono ancora molteplici, sono sempre necessarie le attenzioni di contenimento della spesa sulla spesa inappropriata bisogna sempre fare in modo che i ricoveri non siano inappropriati, che la diagnostica sia appropriata bisogna fare in modo che le risorse vengano veramente utilizzate per dare soddisfazione alla domanda di salute dei cittadini pugliesi. Vorrei anche ricordare che la povertà è causa di malattie e che il problema principale che abbiamo non in Puglia ma in tutta Italia e in una parte rilevante dell'Europa è che non si può fare buona sanità se non c'è giustizia sociale se non c'è lotta contro la povertà. Ecco, per il resto ogni settimana l'ospedale di Puglia, qual è il Policlinico di Bari fa un passo in avanti in termini di eccellenza. Oggi il reparto di rianimazione d'urgenza diretto dal professor Tommaso Fiore è un'altra eccellenza a disposizione del sistema sanitario pugliese. Il dato più bello, se lei mi chiede il dato più brutto io le dico il dato più bello è l'abbattimento costante della mobilità passiva cioè sempre meno pugliesi fanno i viaggi della speranza per cercare la buona sanità al nord capita sempre di più che la trovano qua.